La censura arriva dove meno te l'aspetti, alle volte, e succede anche al grande fratello Vip, anzi, in questo programma succede anche abbastanza spesso. E perché? E perché proprio la gente non ce la fa, deve dire la sua, anche quando non è il momento. E alle volte si toccano dei tasti dolenti, molto dolenti, direi. È successo che Antonino Spinalbese è fermato, perché tutti pensano sicuramente a Belen con questa cosa adesso, ma quanto riportava Alessandro Rosica mesi fa, infatti pare che Belen non abbia preso benissimo la notizia della partecipazione di Antonino al Grande Fratello, anzi sarebbe addirittura arrivata alla diffida nel caso in cui lei o loro figlia venissero soltanto nominate. Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio. Au, uomo avvisato, mezzo salvato. Lo avrebbe detto, almeno secondo Rosica, Belen Rodriguez. Una vera e propria guerra con il suo ex compagno e padre della sua secondogenita Luna Marie. Alle volte lo fanno però per proteggere i ragazzotti, insomma. E forse diversamente non potrebbe essere, visto il modo burascoso nel quale si sono lasciati. C'è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall'amore. Prima. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni, di prendere strade diverse. Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, cioè la famiglia e una propria vita. E questo è tutto il discorso da parte di Antonino, che non ci fa una piega, se siete d'accordo. Altrimenti scrivetevi qui sotto, nei commenti. Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, cioè la nascita di un figlio. Un'emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta e vedevo soltanto quella. Non eravamo allineati. Mi sono fatto un po' a trasportare, come sempre, dalle emozioni, anche perché credo che sia impossibile frenare il cuore. Parole sante da parte di Antonino, che parlava un po' del rapporto iniziale con Belen Rodriguez. E non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato. So che ogni mia scelta mi porterà qualcosa di bello. Quando eravamo noi due da soli non ci mancava niente. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita. Avevano paura che fossi troppo esposto. Questo mondo ti può creare guai. Torniamo a noi, signori. Vediamola esternamente. Al Grande Fratello tutto è successo quando Gioele ha chiesto chi ha scelto il nome Luna Marie. Antonino le ha raccontato che Luna è stato scelto da Santiago, mentre Marie lo ha giunto lui. È stato lui. Appena è spuntato fuori il nome del figlio di Belen, Stefano De Martino, Antonino ha risposto subito Ah, è stato bellissimo, cioè è stato... E gli hanno spento il microfono. Gli hanno spento il microfono. Super censura, signori. Il Grande Fratello Vip ha censurato Spinalbese su Santiago De Martino. Ebbene sì. Ma sappiamo tutto ormai. Sappiamo benissimo cosa bolle in pentola e che cosa stava dicendo. Quindi insomma a noi sicuro non ci ha fregato. Però siccome siamo in tv, così è. Allora la chiudo qui. Per ora per questa notizia è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiremo alla prossima, ma se volete prima di andare via, pollice in su.